I fantasmi di pietra sono case deserte, un paese senza le persone. Sono finestre chiuse che hanno imparato ogni voce di quelle strade, sono madri che pregano per i figli lontani, le madri sono tutte uguali, le carezze, i baci per i figli che non sono tornati, ma dov'è la gente che manca, dov'è, in quale stanza, ma dov'è, non si sente niente, dov'è, la gente. I fantasmi di pietra custodiscono i sogni spezzati prima del mondo. Del tempo, stanze chiuse, fuoco spento, sogni rimasti lì dentro, ma dov'è la gente che manca, dov'è, in quale stanza, ma dov'è. non si sente niente, dov'è, la gente. I fantasmi di pietra segno e memoria di ogni voce del silenzio che resta, ogni croce racconta la terra, e in cielo accende una stella, e i fantasmi di pietra accarezzano i bimbi, abbracciano le persone, come fossero ancora lì, dietro al portone. ma dov'è, la gente che manca, ma dov'è, non si sente niente. ma dov'è, la gente che manca, ma dov'è, non si sente niente. Grazie a tutti